Andrea Andreucci, quando ci si confronta all'interno di un congresso si auspica sempre che al termine del confronto si esca con un risultato. Nel caso degli infermieri di emergenza urgenza che risultato pensate di aver ottenuto? Beh allora anzitutto il primo risultato vero è questa platea nel senso abbiamo un 50% circa di infermieri e un 50% di medici riuniti in un'unica sala a trattare argomenti comuni questo vuol dire che già abbiamo fatto un passo verso quell'integrazione cercata, voluta, mai trovata fino ad oggi mai formalizzata. L'intento di questo evento era proprio, della tavola rotonda in particolare, era proprio cercare di capire se ci poteva essere della stoffa per cuscirla questa integrazione e credo che abbiamo buttato giù delle belle basi per iniziare a saldarla. A chi tocca adesso compiere il prossimo passo? Perché proprio dal dibattito è venuto fuori che c'è una sorta di essere arlecchini nel servizio di emergenza urgenza sul territorio nazionale. Allora a chi tocca il primo passo perché poi si possa uniformare questo servizio? Sicuramente le federazioni hanno un ruolo fondamentale nel parlarsi. Noi abbiamo provato a fare una partenza dal basso, quindi dalla base che si muove e che dice abbiamo bisogno di formalizzare, abbiamo bisogno di trovare. Provate voi, federazioni che siete il vertice insieme alla politica, a crearla. Poi naturalmente noi siamo qua, siamo disponibilissimi a darvi una mano e a collaborare. I professionisti che sono in questa sala oggi lo hanno dimostrato perché tutti hanno teso una mano verso l'altra parte. L'ultima considerazione, medico-infermiere o infermiere-medico sempre insieme anche nell'emergenza urgenza o il futuro potrà essere le ambulanze con i soli infermieri? Medico-infermiere comunque sono un'equip completa. È chiaro che ci sono determinate situazioni dove devono essere affrontate da equip complete. Ci sono determinate situazioni che devono essere affrontate solo dal medico, determinate situazioni che possono essere affrontate tranquillamente avendo degli strumenti giusti e condivisi soltanto dall'infermiere. Questa è secondo me la mia visione del futuro.